Automobilisti in coda ai passaggi a livello, talvolta malfunzionanti, in attesa del transito dei treni con conseguenti disagi. Succede spesso nel comune di Villanova. Tre passaggi a livello, dei nove presenti sul territorio comunale sulla linea Fidenza-Cremona, verranno aboliti grazie a un finanziamento reperito dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Ministero delle Infrastrutture. Noi metteremo 3 milioni di euro che abbiamo reperito dai fondi strutturali comunitari europei e abbiamo parallelamente anche conquistato una disponibilità al finanziamento di 2 milioni di euro da parte di RFI, per cui un intervento che sarà completo da arrivare a gara d'appalto a fine 2019, quindi un intervento cantierabile anche a breve termine, che ovviamente risolverà i problemi attesi dal territorio. C'è questa esigenza impellente di togliere almeno qualcuno e di migliorare anche il funzionamento di quelli che rimarranno, per cui è evidente che nei prossimi investimenti RFI dovrà provvedere a far sì che il sistema di funzionamento, dei passaggi a livello, sia decisamente migliorato. Entro il 2018 verranno progettati i lavori dalla provincia. Dopo 12 mesi dovrà essere concluso il bando di gara e dunque si presume che i passaggi a livello verranno aboliti nel 2020.